Buongiorno cari telespettatori Buongiorno Damiana Buongiorno carissimo Ben alzati Buongiorno Emiliano Buongiorno Damiana Eccoci qui nel vostro salotto del mattino del buon risveglio Ma ora Meteo Accadde oggi Rassegna stampa Proverbio del giorno Anche oggi abbiamo un tema veramente importante Per te che sei un caro ragazzo pochi euro caro Sei bellissimo Grazie, sei un cavaliere Che bello che sei così Qui ci impegniamo anche a fare le pulizie Lavoro nocivo, lavoro osurante Andiamo a conoscere i nostri ospiti di oggi A far di barba e baffi ne avrai bisogno un po' anch'io caro Federico Do baffetti da togliere TV7 alle 7 Dalle 7 alle 10 su TV7 Triveneta Network Adoro Bene, sono molto contenta Laf of the swing Laf of the swing Grazie a tutti.